ciao ragazzi io sono nico di messo sono ritornato con un nuovo video incontri principali liverpool vs manchester united prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un piccolo mi piace e attivate la campanella per stare sempre aggiornati con i miei video detto questo vamonos allora io ho fatto a destra spagna e a sinistra inglintera cominciamo questa è la squadra ragazzi andiamo a ritirare il nostro primo pacchetto giocatori oro premium ben 47 pacchettini e noi ci vediamo con un prossimo ciao ciao